È l'unico strumento col quale possiamo incidere realmente sulla nostra economia. Dobbiamo evitare la polverizzazione della spesa, i cosiddetti aiuti a pioggia che non producono sviluppo, non producono crescita, non producono assistenzialismo. Non è con questi fondi strutturali europei che possiamo intervenire per dare assistenza. Questi sono fondi con i quali dobbiamo creare grandi idee di sviluppo. Se dobbiamo incidere anche sugli eventi culturali lo dobbiamo fare creando per esempio un evento stabile come la Fiera del Levante. Dobbiamo creare grandi eventi. Immaginiamo di investire sulla dieta mediterranea, sul turismo legato all'agroalimentare, sul ripascimento delle coste, sull'infrastrutturazione del nostro territorio perché questo produce economia, produce pil, produce sviluppo. Se non c'è intermodalità, se non c'è interconnessione, anche il porto di Salerno e il porto di Napoli fanno difficoltà a crescere. Se non abbiamo intermodalità tra il porto, l'aeroporto, le reti autostradali, le zone di Nola dove ci sono le zone di scambio, avremmo una difficoltà a far crescere il nostro territorio. Su tutto questo dobbiamo incidere. Poi permettetemi una parola su un aspetto al quale dobbiamo necessariamente concentrarci anche lì con l'utilizzo di questi fondi strutturali europei, la politica ambientale. Noi abbiamo ancora oggi una regione campania nella quale sulla cartina geografica abbiamo intere zone del torso territorio mappate in nero sulla cartina, come se fossero territori minati. Abbiamo quella che era la campania Felix, ancora oggi purtroppo additata come terra dei fuochi, ho presentato qualche settimana fa un libro con Antonio Giordano e Paolo Chiariello sulla monnezza di Stato. Abbiamo ancora editori, giornalisti di livello, scienziati che scrivono dei drammi dell'utilizzo e della gestione dei rifiuti in campania. Su questo non possiamo più attendere. Abbiamo 6 milioni di ecoballe su cui dobbiamo decidere come smaltirle, come intervenire nel più breve tempo possibile. Qualcuno raccontava, diceva ormai hanno perso il percolato, ormai non sono più dannose, ma possiamo da un punto di vista anche simbolico continuare a vivere in una regione nella quale venendo giù da Roma in alta velocità nelle zone Giuliano, Villa Literno, abbiamo queste che sono delle vere e proprie piramidi egizie con dei teloni abbandonate nel nostro territorio campano, sugli effetti dei quali ancora non abbiamo avuto studi concreti e reali e che incidono non solo sull'immagine della campania ma anche sull'economia, sull'agricoltura, sugli allenamenti circostanti. Insomma dobbiamo fare una grande operazione di riassetto della politica ambientale del nostro paese e di razionalizzazione e normalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti.